Buonasera, tifosi del Palermo? Parliamo del sindaco di Palermo? No, no, tifosi del Palermo... Perché non possiamo parlare del sindaco di Palermo? È perché la trasmissione è sportiva. Salve, Gasperini ha parlato di una selezione più rigida nella formazione, ha detto che farà dei cambi. Lei chi toglierebbe nel Palermo e in favore di chi? Io sicuramente eliminerei il blocco proveniente di tutto il Novara. C'è tipo il Garzia e altri giocatori, però non di meno a questo, il Palermo quest'anno ha una difesa molto scarsa, ecco, praticamente questo è il problema, è la cosa che non va al Palermo. Non voglio offendere nessuno. Mugno si sta migliorando. Chi toglieresti da questo Palermo? Nessuno. Momentaneamente quasi tutti. Uno in particolare? Forse Bertolo. Rios. Ilicic. Hernandez. E tutti gli altri giocatori e presso a loro. Chi toglierebbe? Chi toglierebbe da questo Palermo, così diretto? Da questo Palermo chi toglierebbe? Ilicic. Tutte. E uno in particolare? Tutte. Io dei giocatori non toglierei nessuno. Chi vorresti vedere sempre in campo? Di Bala. Il ragazzino di Bala. Ma io vorrei provare Bunan. Non riesco a capire perché non mettiamo una punta di peso. Potrebbe prendere qualche ottimo elemento della primavera. Dico, abbiamo un'ottima primavera, quindi perché non sfruttare le nostre risorse? Erano 11 in campo, ne avere solo uno, a piccole, perché tutte fanno pena. Che mi dite? Questa squadra, eh? Non voglio offendere nessuno.